Banca Mediolano ha rinnovato con Gazzetta dello Sport per altri tre anni la sua partecipazione a sponsorizzazione al Giro d'Italia della Maglia Azzurra. E questo lo comunico con grande orgoglio, con grande piacere perché so che tra i clienti di Banca Mediolano ci sono tanti, tantissimi appassionati di questo meraviglioso sport, di questo meraviglioso evento. E quindi di nuovo quest'anno continueremo con i nostri eventi, con gli ospitali, la possibilità di vedere i ciclisti da vicino, le pedalate con i grandi campioni che abbiamo nella nostra squadra, nella grande squadra Mediolanum e le cene sempre con loro. Per cui per i prossimi tre anni tutti i nostri clienti continueranno ad avere la possibilità, se lo desiderano, di partecipare a questo meraviglioso evento. Grazie. 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 Grazie.